gentilittere spettatori buona giornata false assunzioni per truffare lo stato sui contributi dopo la cisl la finanza perquisisce la will avvisi di garanzia i vertici alle aziende e beh insomma tutto il mondo è paese come si dice quando si parla di soldi non c'è truffa che tenga il sistema delle assunzioni fasulle presso le aziende per scaricare sullo stato i contributi dei funzionari sindacali non è stato inventato solo dal sindacato cattolico così dopo l'operazione che nel dicembre scorso aveva portato la guardia di finanza a perquisire la sede cislina della cisl di via tadino dire toccato alla will su richiesta della procura della repubblica le fiamme gialle fanno scattare un sequestro preventivo per 400 mila euro e notificano l'avviso di garanzia sia i vertici sindacali che agli amministratori delle aziende che si sono prestati al trucco ci sono studi di consulenza piccole aziende cooperative ma anche colossi come la edison in tutto nove indagati un fenomeno questo degli accordi illeciti sotto banco tra sindacati e proprietà che solleva più di un interrogativo sui reali rapporti tra due fronti in teoria contrapposti molto spesso il sindacato inteso in generale è d'accordo con l'azienda più che fronti contrapposti sono fronti che si accordano che sono d'accordo davanti al lavoratore sono due due entità che si combattono ma non è vero secondo il decreto firmato da giudice preliminare anna calabi il mal costume chiamano truffa i danni dello stato viene chiamato il mal costume riguardava buona parte delle organizzazioni di categoria della cisl dalla film la storica organizzazione dei metalmeccanici ai post telegrafonici gli atipici della felsa e femca fene a fene ual ovvero chimici ed edili l'accusa per tutti di truffa allo stato e il meccanismo è identico in tutti i casi cioè una cosa già abbastanza rodata già abbastanza consolidata il meccanismo identico nell'interrogatorio che ha dato il via all'inchiesta dal dirigente cisle giuseppe foti è basato sull'articolo dello statuto dei lavoratori che consente il distacco sindacale degli attivisti che passano a lavorare a tempo pieno per le organizzazioni e che da esse vengono pagati i contributi in questo problema nel periodo di distacco non sono versati né dalle ditte né dal sindacato ma dallo stato come figurativi per approfittare di questo strumento cisle e will facevano assumere i loro militanti presso le ditte compiacenti le ditte compiacenti dove in realtà non mettevano piede neanche un giorno e che bravi eh dopo l'operazione contro la cisle la finanza si è messa a spulciare tutti gli elenchi dei sindacalisti lombardi in distacco e li ha interrogati uno per uno e anche tra i funzionari della guille sono saltate fuori storie surreali un attivista reclutata dai vertici regionali della guille trasporti viene fatta assumere dalla talia logistiche dove però non sapranno mai neanche che faccia abbia so solo che è stata assunta dalla cooperativa perché ho visto il suo nome su alcune buste paga dichiara un'impiegata tale angelo colombini viene piazzato alla monte flu una branca del gruppo montedison no non vi ho mai lavorato ammette quando lo interrogano ricordo esclusivamente di aver sostenuto un colloquio conoscitivo con un dirigente di cui non ricordo il nome ci rimane sulla carta per vent'anni l'Inps scuce per lui 240.000 euro di contributi Giuseppina Franco viene piazzata nel 2015 alla Edison e anche lì nessuno si ricorda di averla mai vista lavorare io queste cose le ho viste fuori dall'Italia pensavo che era una caratteristica di certi paesi invece vedo che in Italia è lo stesso io ho visto cose che voi umani non potreste neanche immaginare ho visto delle dichiarazioni annuali con importi tripli a insaputa del contribuente cioè il contribuente non in Italia il contribuente guadagna 20.000 poi dalla dichiarazione dei redditi precompilata viene fuori 50.000 quindi 20.000 ma in realtà 50.000 vuol dire che dentro che a te figurano dati 50.000 ma in realtà quei 30.000 in più sono dati a altre persone che li chiamano gli aviatori qua dove sono io li chiamano gli aviatori sono quelle persone come in questo caso che non hanno mai messo piede nelle aziende statali in questo caso ma prendono uno stipendio segreto gli aviatori e tutti lo sanno tutti lo sanno tutti lo sanno e nessuno dice niente perché ci sono sotto tutti dei maneggi io do a te tu dai a me io do a te perché stai zitto pensavo fosse solo qua e invece vedo che i sindacati italiani Cisle e Will avevano i lavoratori fantasma fantastico cioè fantastico nella mostruosità avete visto quando si dice quel proverbio tutto il mondo è paese eh sì ve lo posso confermare ve lo posso confermare c'è paese che è un po' più corrotto paese un po' meno corrotto ma le direttive diciamo le linee guida sembra che ci sia un manuale in tutto il mondo come truffare come truffare lo stato poi lo stato poi lo stato è anche una parte di esso è complice eh attenzione per truffare lo stato una parte dello stesso stato deve essere complice e certo ci deve essere qualcuno che non vede qualcuno che non vuole vedere qualcuno che non riesce a vedere va bene cioè è un modo di dire va bene abbiamo scoperto anche questo spaccato del paese i dipendenti fantasma sulla carta per vent'anni ci rimane sulla carta per vent'anni l'Inps scuce per lui 240.000 euro di contributi wow veramente sono sono esterefatto avevo un'opinione più alta dell'Italia piano piano sta scendendo sempre di più e vabbè arrivederci a tutti e grazie bene 0 grazie in